Come benissimo sapete ieri si è rotta l'ultima catena che teneva grappata la chest alla mano Ovviamente poi la chest è caduta e si è aperta E adesso andremo a vedere il momento in cui la community ha rotto la catena Infatti come vedete la barra verde non c'è più, non si vede praticamente niente E la catena si rompe E comunque c'è da dire che la community di Fortnite è stata veramente veloce a rompere le catene GG